ciao benvenuti su brilla donna sono emozionata nel vedere come cresciamo giorno per giorno questo grazie a voi sapete siamo cinque donne da cinque paesi del mondo diversi e siamo felici che questa unione può essere di ispirazione per oggi parleremo di un argomento fantastico di un elenco di dieci abitudini che fanno le persone felici io vi auguro di avere tanta felicità perché il mondo veramente ha bisogno di persone felici iniziamo 1 le persone felici fanno qualcosa per gli altri chiediamoci cosa ho fatto di recente per un'altra persona quando noi dedichiamo il nostro tempo agli altri facciamo qualcosa per gli altri il nostro cuore è felice cerchiamo di fare almeno tre azioni del possibile per gli altri per esempio può essere una colazione a sorpresa per qualcuno chiamiamo un sorriso che regaliamo a qualcuno sono sempre cose che partono da noi che non facciamo perdere due le persone felici si connettono con noi facciamo almeno quattro conoscenze dico amicizia ma conoscenze con le persone per esempio davanti alla macchinetta del caffè autobus è sempre un modo carino e gentile di condividere la nostra gioia con gli altri tre le persone felici si prendono cura del loro corpo facciamo attività fisica per migliorare il nostro umore il nostro benessere chiediamoci in che modo mi piace essere in forma in che modo mi piace prendermi cura del mio corpo mi piace ballare mi piace lottare mi piace correre quattro le persone felici osservano il mondo intorno a loro cerchiamo di fare una strada nuova e cerchiamo di vedere il mondo con gli occhi nuovi per esempio quando andiamo al lavoro cerchiamo di osservare il mondo con gli occhi dei bambini con la curiosità con entusiasmo osserviamo anche il viso del nostro miglior amico cinque le persone felici amano leggere studiare imparare cose nuove chiediamoci che cosa di nuovo imparato l'ultimo tempo per esempio una volta a settimana facciamo un dolce nuovo è sempre stimolante per la nostra creatività sei le persone felici cercano sempre di creare nuovi obiettivi lavorate un vostro obiettivo un obiettivo è una cosa bellissima quando abbiamo uno scopo nella vita e tutto più stimolante più motivante cerchiamo di trovarci uno scopo per un anno e poi lo dividiamo in mese e poi in azione settimanale o anche un Oscar Wilde qual è lo scopo della vita e avere una vita con uno scopo sette le persone felici esercitano la resilienza che cos'è la resilienza e la capacità di rispondere a ogni cosa che ci capitano nella vita in maniera positiva resilienza e continuare ad andare avanti con un atteggiamento positivo chiediamoci in che in che modo in passato ho affrontato un momento difficoltoso come sono riuscito a rialzarmi e cerchiamo quando abbiamo difficoltà di tirare fuori questa nostra capacità di poter risolvere in maniera positiva con un atteggiamento giusto le nostre le nostre situazioni otto le persone felici mantengono un atteggiamento positivo nella vita aumentando sempre la gioia la gratitudine chiediamoci che cosa di bello è successo oggi che cosa di bello ho fatto 9 le persone felici si apprezzano per quello che sono impariamo a farci complimenti al mattino cerchiamoci di vestirci con cose che ci piace davvero accettiamoci per quello che siamo è magnifico un esercizio molto bello sarebbe di chiederci di farci domande intelligenti a noi stessi quali sono i miei talenti quali sono i miei doni un amico con cui abbiamo confidenza chiedere anche a lui i nostri punti forti e 10 siamo arrivati al diecimo punto che cosa fanno le persone felici le persone felici danno significato alla loro vita praticano volontariato si chiedono quali sono i valori della loro vita per condividere aiutare gli altri radunatevi con delle persone che la pensano come voi cercate di dare un contributo positivo nel mondo io vi ringrazio per la vostra attenzione se vi è piaciuto questo video aspetta un like e un vostro commento vi auguro una splendida giornata